... Sai in cosa consiste il mio lavoro? Sono un acquisitore. Alzo gli occhi e... ...prendo quello che cade dal cielo. Che c'è sull'astronave? I racconti dell'operazione. Ha visto qualcosa di strano? Non siamo pagati abbastanza per questo. Merita un dolcetto, no? Senta, è accaduto qualcosa in Messico. E nessuno vuole testimoni. Quindi, dobbiamo sapere se rappresentate una minaccia. Noi siamo Ranger. Ehi, Bugsley, se la vagina di tua madre fosse un videogioco, avrebbe il visto censura per tutti. Il cazzo di scopo non è rappresentare una minaccia. I predatori non se ne stanno con le mani in mano aspettando di fare i cappelli con le nostre costole. Hanno conquistato lo spazio. Ma presto non sarà più così. Devo preoccuparmi? Di sicuro! Penso che tu sappia cosa contenga quella nave. I predatori più evoluti. Fuoco! Potremmo morire. Ma siamo ancora qui. Vieni a prenderci, figlio di puttana. Vieni a prenderci. Grazie per la visione!